Quanto è presente l'Unione Europea nella tua vita quotidiana? Spesso non ci rendiamo conto di quanto l'Unione Europea sia presente nella nostra vita quotidiana o magari diamo tutto per scontato. Tutti noi, come cittadini europei, usufruiamo di vantaggi che spesso diamo per scontati. Viviamo in un continente dove regna la pace, usiamo l'euro, facciamo parte della maggiore economia del mondo, siamo liberi di viaggiare, vivere e studiare in altri paesi europei. Beneficiamo però anche di vantaggi che sono meno ovvi e che ogni giorno fanno davvero la differenza. Vediamo insieme alcuni esempi. Grazie alle norme europee, l'utilizzo dei telefoni cellulari all'estero è diventato molto economico perché sono state abolite le tariffe di Romica. Ciò significa che puoi utilizzare il cellulare ovunque nell'Unione Europea come a casa tua. Come cittadini europei possiamo viaggiare, studiare e lavorare in tutta l'Unione Europea. Se siamo all'estero e ci ammaliamo, studiamo un infortunio, abbiamo diritto all'assistenza sanitaria necessaria alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Inoltre, grazie al mercato unico, nell'Unione Europea possono circolare liberamente anche le merci, con un indiscusso vantaggio per imprese e consumatori. Infatti, una maggiore concorrenza determina un calo di prezzi e una più ampia offerta di prodotti e servizi. In qualità di consumatori abbiamo diritto alla garanzia di due anni sugli acquisti e 14 giorni di tempo per restituire le merci acquistate. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel laboratorio Unione Europea nella vita quotidiana. Scopri tutto questo e molto altro insieme a Europe Direct Trentino. Contatta Europe Direct Trentino. Gli operatori saranno felici di trovare insieme a te la proposta che meglio si adatta al percorso scolastico.